diciamo per chi non segue twitter non tutti anzi è un microcosmo anche se a noi sembra gigantesco e altri economisti sono intervenuti come Alessandro Giudice che ha detto io ho attaccato l'Inter spesso ma qua mi sembra la Juve sia troppo esposta su alcune cose ci spiegherai un po' magari anche quel punto di vista e cosa non ti convince magari di quella opzione Fabrizio mentre Fabio Ramezzani mediava tra i due vedevo che dici? ma perché a volte anche chi diciamo ha competenze tecniche quindi sicuramente Giudice è tra di questi per così scatenare la visibilità del tweet dice delle cose magari che non sono troppo corrette la vendetta degli interisti che si sono sempre sentiti dire che avevano il miliardo di debito il miliardo e due, i novecento milioni chi più ne ha più ne metta allora a un certo punto esce il tweet comunque la Juve ha più debiti dell'Inter ma se anche fosse vero peraltro non mi risulta però se anche fosse vero è un numero che non vuol dire nulla cioè la Juventus fattura di più dell'Inter quindi può garantire molto meglio dell'Inter perché ha una proprietà diversa quindi l'indebitamento poi bisogna vedere che debito è una cosa è il debito per pagare i calciatori che è praticamente garantito un'altra cosa è il debito finanziario quindi sono diciamo che se lo Juventino usa la leva dell'Inter al miliardo di debito allora ci sta che chi Juventino non è possa dire la stessa cosa contro di noi però poi in realtà per rispondere alla domanda se noi guardiamo i bilanci dell'Inter e della Juventus e ne mettiamo a confronto sì il bilancio della Juventus è più bello di quello dell'Inter ma non è come dire che ci sia quella distanza clamorosa io nel libro ho analizzato gli ultimi otto stagioni in particolare perché ho fatto ovviamente l'analisi più approfondita della Juventus l'ho detto perché sono tifoso ma perché in realtà è quella che ha più tifosi quindi è inevitabile così come è la più odiata se devo prendere un esempio di bilancio prendo anche l'esempio di una società quotata che fa un bilancio anche più bello dal punto di vista proprio della rappresentazione estetica e nelle ultime otto stagioni della Juventus comparate al Milan l'Inter viene fuori che ci sono in realtà delle forti analogie tra tutte e tre le squadre perché tutte e tre hanno avuto bisogno della proprietà pesantissimamente e anche questa è un po' una leggenda non si dice sempre i 700 milioni a Juventus dove sono finiti ma in realtà se uno va a vedere il Milan e l'Inter cioè il Milan ha supportato il patrimonio netto negli ultimi otto anni con 785 milioni di cui 6,60 messi dai soci e 125 è una rivalutazione l'Inter comunque è stata supportata con mezzo miliardo più una rivalutazione di 200 milioni e ancora il patrimonio negativo quindi se aggiungiamo la parte a cui ha già rinunciato la proprietà che sono 76 milioni più al minimo 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 a voler volare bassi altri 50 per andare a 20 milioni di capitale sociale stiamo parlando di nuovo di 800 e passa milioni quindi di fatto Mila, Juventus e Inter in questi otto anni hanno avuto forte bisogno della proprietà e rispondendo alla domanda qual è la vera differenza? è che la Juventus mette utili di Exor e soldi degli azionisti di minoranza dentro l'Inter ha messo soldi ricevuti in prestito la società controllante di Zhang quindi la domanda è qualunque impresa che chiede un prestito a una banca la banca glielo concede perché quei soldi vengono investiti e quindi producono soldi producono utili e grazie agli utili che producono poi vengono restituiti i finanziamenti invece il modello di finanziamento dell'Inter che giustamente preoccupa è che il proprietario i soldi che ha messo dentro non li aveva evidentemente li ha presti in prestito dando impegno all'Inter peraltro dopodiché li ha messi dentro l'Inter l'Inter li ha bruciati non li ha più quei soldi come li ha bruciati la Juventus li ha bruciati il Milan però quelli della Juventus Exor non li vuole indietro gli azionisti non li vogliono indietro perché hanno versato a titolo di capitale di rischio anche anche il proprietario dell'Inter non li vuole indietro perché prima li ha prestati all'Inter e poi siccome l'Inter perdeva il capitale ha comunque dovuto rinunciare a farsi restituire il problema è che però lui li deve restituire al finanziatore e quindi quello che si chiedono un po' tutti è come farà visto che io non conosco le vicende ovviamente il bilancio dell'Inter l'ho visto prima discutevamo su Twitter bisognerebbe leggere il bilancio della controllante ecco io il bilancio della controllante dell'Inter non l'ho visto però comunque le notizie di stampa che leggiamo tutti sono abbastanza chiare cioè che il proprietario abbia delle difficoltà finanziarie è una notizia diciamo di dominio pubblico e allora quando poi dovrà restituire quei soldi siccome i soldi li ha spesi la domanda è come farà diciamo che alla peggio cosa succederà all'Inter cambierà proprietario non è che fallirà perché comunque il valore di una squadra con 4 milioni stimati di stifosi è tale per cui anche togliendo il debito finanziario ha ancora la possibilità di essere venduta e il proprietario attuale di incassare un bel po' di soldi ho capito arriva un presta nome cinese come fanno i negozi cinesi insomma ok ho capito il problema è che poi se vieni venduto non è detto che cadi in mano migliori perché il Milan ha avuto delle vicissitudini l'Inter ha quello che ha adesso insomma quando parlo ai tifosi della Juve ricordiamoci sempre quanto è bello avere da cent'anni la stessa proprietà è una proprietà solida seria quindi poi può essere più o meno simpatica ma il Milan e l'Inter non hanno la stessa situazione nostra il Milan è messo bene dal punto di vista bilancistico è messo benissimo purtroppo per il Milan e i tifosi non è esattamente che stia vincendo moltissimo e quindi avere il bilancio bello se poi non vinci penso che i tifosi non interessi adesso Entran ha dichiarato scusate vi dico una cosa intanto torniamo ora su questo che l'amico Romeo Agresti mi dice due minuti mi avvisa e twitta la formazione e dice ci sono delle novità delle novità non so se hai rispetto non so se ci hai ascoltato quindi magari parla proprio di Alessandro Locatelli tutte le cose che abbiamo detto quello che diceva Luca tutte le cose che abbiamo detto non so se stava ascoltando noi però mi avvisa che quindi ora magari poi andiamo anche su quel commento e vai pure intanto ti interrompo quando la quando la twitta chiudo il discorso sull'Inter solo dicendo che il il tema della continuità che è quello che valutano i revisori cioè se l'azienda ce la farà ad andare avanti oppure no i revisori dicono che la società controllante garantisce i soldi per almeno i prossimi 12 mesi quando si valuta questo bisogna considerare che da una parte l'Inter comunque ha 100 milioni di liquidità sul conto corrente attivo e quindi per 12 mesi comunque è una cifra importante e i revisori quando dicono che c'è continuità non intendono dire che l'azienda non rischia di fallire intendono solo dire che non è probabile che fallisca nei prossimi 12 mesi quindi se hai 100 milioni e comunque un supporto della controllante a fine anno ci arrivi ecco quindi il fatto che i revisori dicano che non ci sono problemi di continuità perché il socio garantisce loro gli hanno chiesto la garanzia ma solo per arrivare alla fine del prossimo anno vi leggo chiaro chiaro chiarissimo vi leggo la formazione è arrivata ultime di formazione Cesni è circa come avevamo accennato a centro campo però c'è Nicolussi Caviglia Cesni Gatti Bremer Alexandro a centro campo Cambiaso McKennie Nicolussi Caviglia Rabiot Costic davanti Chiesa e Vlaovic quindi avevamo annunciato un po' che Alexandro fosse in poll invece con Luca eravamo rimasti un po' su Miretti quando qui Romeo ci dà notizie su Nicolussi Caviglia e quindi questo staremo a staremo un po' a vedere però ragazzi ve la ripeto ancora Romeo come ultimi di formazione poi mancano 5 ore tutto può cambiare ci dà questo si vede che è l'ultima provata o comunque le ultime discrezioni sono queste Cesni Gatti Bremer Alexandro Cambiaso McKennie Nicolussi Caviglia Rabiot Costic Chiesa e Vlaovic questo ecco che dice fermiamoci un attimo vai Leo Leo le dì qualcosa tanto prendiamo l'antico pro no no vabbè sai è un venerdì come venerdì non dico un venerdì santo perché sarà quando è il prossimo però Sandro mette un po' qualche picco piccolo brivido lo metti poi Nicolussi tutto sommato con l'Inter dai ha fatto la sua parola ma questi siamo nonostante io ieri sera a Lecce sentivo dire siamo una rosa appena più appena sotto l'Inter li dovevamo dominare li dovevamo ammazzare e anche Guardiola ci ha provato a dominare quindi con quelli che siamo speriamo anche l'1-0 fino al 93 che sono barricati a me va bene il prof è ancora tra noi non è vero Mauro ci stai dicendo che il prof ha avuto un tracollo al nome Alexandro invece è tra noi lucido che resiste ragazzi tutti disperati ma Rugani cosa ha guarda comunque come cambia il mondo la gente disperata che esca ma no ma è un merito questo è un merito di Rugani veramente che dimostra che a volte i pregiudizi invece si superano però anche di come siamo umorali un po' a noi un tempo uno dovevi cacciare gratis regalarlo a chiunque gratis oggi sei disperato Mike Fusco ti senti con testa vai vai se vincessimo con gol di Alexandro cosa succederebbe eh capito bravo allora grande attacco di Mike Fusco dell'H show a Roma ah sì a Leo Mina dicendoli dove eri collegato a Ambriaco dice che nessuno da loro ha detto che la Juve era superiore dell'Inter no no guarda ci avevo un occhio ci avevo un occhio così sentivo vabbè Carraro vabbè mi ha aiutato spera in conto tutte queste cose così che siamo sotto l'Inter però forse dormivo e ero ubriaco mi pare di aver sentito una roba del genere allora ragazzi avete sentito insomma tra poco ci torniamo prima di salutarci ritorniamo su Monza e sulle formazioni allora insomma stava rispondendo il prof che tutto sommato come dire il bilancio dell'Inter non è sicuramente quella meraviglia che alcuni hanno dipinto né si può dire migliore del nostro con una serie di garanzie che ha la Juventus in più di solidità in più detto in modo barbaro prof la Juventus è giusto? sì noi intanto adesso ci sta un po' venendo dietro sui ricavi ma è ancora dietro e quindi ancora abbiamo più ricavi l'Inter ad esempio non è messa benissimo sulla parte dei ricavi cosiddetti strutturali sulle sponsorizzazioni non sta tirando su tantissimo ha avuto anche le vicissitudini di beccarsi lo sponsor insolvente e quindi sta cercando di ottenere nuove sponsorizzazioni che sono comunque ricavi fondamentali perché quelli ti rimangono in buona parte anche se non vinci le partite e noi abbiamo comunque un debito più basso debito finanziario dell'Inter ma abbiamo anche investito in attività immobiliari cioè l'ultimo bilancio la Juventus dice di aver speso mi pare 47 milioni di investimenti immobiliari quindi abbiamo speso comunque 110 milioni negli ultimi 8 anni e avevamo già lo stadio e l'Inter e il Milan saranno una trentina quindi in una buona parte sono soldi per magari fare la manutenzione allo stadio che non è loro mentre il nostro sì quindi è chiaro che se la Juventus non avesse speso 50 milioni di immobili avremmo 50 milioni in più e quindi 50 milioni di debiti in meno quindi quando si fanno questi paragoni si dovrebbero fare a parità di a parità di regole lo Inter ha applicato la possibilità di non ricapitalizzare nell'anno del Covid fino al 22 perfettamente legale la cosa però ha comunque chiuso col patrimonio negativo è chiaro che se noi avessimo applicato una regola simile non avremmo dovuto tirare fuori dei soldi quindi vuol dire che loro ai loro debiti vanno aggiunti i soldi che servono per ripristinare almeno il capitale sociale quindi i paragoni sono obiettivamente complicati io quello che ho cercato di sottolineare nel libro però che mentre un'impresa che ha un bel bilancio vince punto e basta perché l'impresa è lì per produrre utili da distribuire ai soci il mondo del calcio ha il suo fascino perché del bilancio ai tifosi non interessa minimamente se non perché capiscono che se il bilancio è brutto non li comprono i giocatori forti quindi ai tifosi interessa interessa vincere ma anche i proprietari delle squadre di calcio abbiamo qualche dubbio sul proprietario del Milan che gli interessi perché sembrerebbe essere molto sensibile al bilancio ma che il proprietario della Juventus non sia lì per avere il dividendo non c'è il minimo dubbio e allora quando si valuta chi ha il bilancio più bello bisogna mettere insieme chi riesce ad avere la sostenibilità che adesso dichiarano tutti l'ha dichiarata ieri Elkan l'ha dichiarata Scaroni per il Milan l'ha dichiarata Zang però sostenibilità finanziaria e competitività sportiva il difficile è centrarle tutte e due il Milan ha raggiunto adesso sembrerebbe una sostanziale sostenibilità finanziaria però ha perso tra virgolette la competitività sportiva perché il bilancio più bello che quello dell'anno scorso gli abbiamo regalato noi la Champions se no loro erano fuori no noi e noi no e noi no e alla fine negli ultimi otto anni il Milan che è quello che peraltro era partito col bilancio forse più brutto non ha vinto quasi niente e tra Juventus e l'Inter comunque ha clamorosamente vinto molto di più la Juventus quindi sono paragoni e poi certamente se andiamo a vedere la Juventus ha vinto moltissimo negli ultimi otto anni ma in realtà sono i cinque del tuo precedente libro degli ultimi tre non abbiamo più vinto quindi l'aspetto preoccupante è il trend però è una fase di ricostruzione evidentemente l'Inter comunque sia avendo un bilancio un po' più brutto del nostro beh ha vinto molto meno di noi quindi quando i tifosi fanno questi ragionamenti devono devono andare a verificare che la finale di Champions l'abbiamo fatta anche noi non abbiamo fatte due quindi però noi di Scudetti abbiamo vinto qualcosa di più e anche qualche coppa in più quindi vai Leo no una domanda simpatica no? non so se ha visto in quel micromondo che è X adesso di Twitter quando quei messaggi con io farei questo vendiamo questo a 90 con 90 compriamo questa 40 questa 45 che l'estate specialmente è pieno no? forse non è esattamente però è il divertimento dei tifosi quello non possiamo togliere però forse è un po' troppo cioè vindo quella di 90 ne prendo 3 da 10 2 da 20 cioè mi sembra il patata ma mi sembra che era molto santo quello forse c'è qualche info in più il pomata il pomata il pomata scusa il pomata ma quello è affascinante io ad esempio all'inizio perché poi ho iniziato a seguire bene i tecnicismi del calcio quando ho iniziato a seguire il problema della sentenza da Juve perché prima facevo il tifoso e nella vita mi occupavo dei bilanci ma non guardavo più di tanto i bilanci li guardavo perché ovviamente avevo l'interesse e mi chiedevo quando c'era la campagna acquisti come era possibile che ci fossero queste clausole incredibili riscatto contro riscatto recompra e poi in realtà approfondendo scopri che sono tutti questioni legate poi molto spesso ai bilanci perché se la società che vuole il calciatore non ha i soldi tipo vedi noi se volessimo un calciatore è molto forte cosa facciamo glielo chiediamo in prestito perché così devi solo pagare l'affitto diciamo e poi ci sono tutti dei meccanismi per cui ad esempio la recompra non la fa più nessuno perché hanno cambiato le regole quindi adesso se tu ti prevedi l'opzione di recompra quando vendi non puoi scrivere la plusvalenza perché il calciatore ha ancora tu in mano il pallino devi rinunciare alla recompra e quell'anno lì metti la plusvalenza e quindi la recompra è finita non la fa più nessuno allora intanto vi dico che tra qualche minuto entra quindi facciamo ancora 10-15 minuti su questo poi ovviamente se il prof Leo devono andare me lo direte senza problemi entra soprattutto il prof lo liberiamo quando finiamo questo entra Romeo Agresti che con cui commentiamo la formazione 15-30-35 entra Romeo gli ho mandato ora il link quindi andiamo un po' ancora sulla partita rimanete rimanete con noi ragazzi viviamo insieme questa questa tesi io faccio una domanda prof molto 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 banale è veramente molto banale la borsa allora per noi tifosi non esperti la borsa diventa solo una complicazione nel senso tutti questi controlli ma non perché si debbano fare cose illegali o illecite ovviamente se no però voglio dire è chiaro che tu hai un controllo molto maggiore su cui si sindaco praticamente su ogni operazione su ogni cosa e che è la Consom e in generale addirittura una cosa che non si può veramente accettare ci si è rivolti ci si è riferiti alla slealtà sportiva come se davvero si potesse ricondurre alla slealtà o lealtà sportiva il fatto di essere quotati in borsa o meno a parità di operazioni a me questa cosa non convince mai anche al di là prof del discorso che tu hai fatto spesso e scrivi nel libro sulle permute ora Juventino a Parigi ce lo chiedeva delle permute ora te lo chiederò anche quello posso già però anticipare che il professore ha detto spesso non l'hanno mai indicato quel criterio non l'hanno mai obbligato nessuno prima a farlo non c'era in primo grado di giudizio quel famoso IAS 38 ora ci dirai bene quindi io riassunto male ma già quello ok ma al di là di questo anche fosse un criterio chiaro se ho trasgredito un criterio ok quella è la mia ma la slealtà è un'altra cosa cioè per me la slealtà è una plusvalenza fatta a valori non consoni è un altro non ha a che fare con la borsa o non borsa quindi secondo me diventa solo la gente ti dice sì sì pure noi abbiamo fatto le porcherie magari tra tifosi ne parliamo così però voi siete in borsa cioè come dire voi siete noi non dobbiamo rispettare delle regole nella vita perché facciamo come ci pare questa è la prima cosa e la seconda ti chiedo appunto ma c'è un vantaggio o c'è una cosa più corretta nello stare perché si è perché è in borsa la Juventus perché è ancora in borsa questo è un dibattito ho sentito che anche a Reikhan gliel'hanno chiesto è previsto un beliste lui ovviamente giustamente visto il tipo di personaggio non ha detto assolutamente no ha detto non abbiamo intrapreso nessun tipo di procedura che porterà al beliste quindi come per dire ad oggi non esiste questa ipotesi il vantaggio della borsa dovrebbe prima di tutto aiutare la forza del brand perché sei più visibile e quindi essendo più visibile il brand a livello anche internazionale dovrebbe avere un maggior valore con tutte le conseguenze in termini di sponsorizzazioni diritti televisivi magari di campionati esteri eccetera la borsa ti consente di accedere con maggiore facilità a finanziamenti allora visto che magari tra chi ci ascolta c'è qualche piccolo azionista magari non sarà molto felice di quello che sto per dire però dai 700 milioni o 900 se ci vogliamo mettere i prossimi 200 di aumento del capitale non li ha messi tutti Exor se non fosse quotata avrebbero dovuto tirarli fuori loro invece la quota parte di flottante che quel 25% cioè di lì largo circa di azionisti di minoranza hanno contribuito a sostenere finanziariamente il club cosa che adesso fanno anche non so i tifosi del Genova che hanno sottoscritto il mini bond però è uno strumento diciamo la borsa ti consente una maggiore capacità di ottenere finanziamenti sui mercati e ti costringe sicuramente come dicevi a una maggiore trasparenza però è stato veramente è una è una leggenda metropolitana quello che la Juventus deve essere punita perché è quotata mentre le altre essendo non quotate possono fare quello che vogliono non è così diciamo che se la Juventus non fosse stata quotata probabilmente quella cosa della permuta non sarebbe mai emersa perché è stata un'idea della Conso la Conso sarebbe stata fuori dai giochi e quindi nessuno mai avrebbe avuto nessuno mai avrebbe avuto la possibilità di fare quel tipo di processo la procura di Torino magari avrebbe fatto il processo per plusvalenze fittizie non si sarebbe dimostrato come in effetti non si è dimostrato in nessun modo le plusvalenze sono gonfiate ci sarebbe stata l'ennesima bolla di sapone che sarebbe finita nel nulla cosa sono le permute prof scusami se ti interrompo poi vai avanti scusami solo perché vedo le domande e poi me le scordo siccome l'ha chiesto spesso è proprio capire cosa sono le permute da quello che ho capito io sono tipo le plusvalenze a specchio in questo caso non erano solo gli scambi o no? in sostanza quando le plusvalenze oggetto di contestazione sono sempre solo quelle da scambio perché tu puoi crearti un miglioramento di bilancio perché hai un calciatore scritto a 10 l'altro ha un calciatore scritto a un'altra cifra si può stabilire che vale molto di più di quello che dovrebbe essere il valore giusto tanto se stabilisci che tutti e due valgono la stessa cifra nessuno di due deve tirare fuori un euro e quindi facendo così si migliorano i bilanci e da 20 anni che si fanno i processi su queste plusvalenze e rarissimamente qualcuno è stato condannato non perché non venissero gonfiate le plusvalenze ma perché è impossibile dimostrarlo e quindi siccome il valore del calciatore non esiste un dato oggettivo un sito affidabile al 100% sono sempre stati tutti assolti nel processo sportivo hanno avuto tra virgolette un'idea geniale volendo condannare che è quello che io ho sempre detto ho scritto in modo tecnico che sinceramente io fatico a leggere le prove loro hanno detto da un lato le avete gonfiate ma non andiamo nel merito perché tanto non è il caso perché il vostro problema è che avete fatto finta che non fossero permute tutto nasce dal fatto che quando fai questo scambio la Conso va individuato nell'ambito degli IAS una regola contabile particolarissima in cui si dice che se lo scambio non è come sostiene la Juve io vendo un calciatore a te e tu ne compro uno da te allo stesso prezzo ma è facciamo una sorta di baratto uno scambio in quel caso non sempre la voglio fare semplice ma in mancanza di alcuni requisiti non puoi proprio scrivere la plusvalenza quindi vuol dire che se anche il prezzo è giusto comunque il bilancio è sbagliato se hai scritto la plusvalenza allora nel processo sportivo hanno colto questa questa ipotesi questa tesi tecnica della Conso l'hanno sfruttata e hanno detto non andiamo a vedere in realtà se si potevano scrivere la plusvalenza perché sarebbe complicato ma tanto inutile perché è inutile farlo perché tu sapendo che rischiavi di non portare a scrivere la plusvalenza quando hai scambiato i calciatori hai fatto finta di fare una vendita e un acquisto e quella roba lì è sleale però è impegnativo costruire questo tipo di accusa perché perché ad esempio per essere sleali ammesso che lo sia sleale questa cosa uno deve essere consapevole del problema e la prima cosa che ha detto la Juventus è ma se io non ho mai neanche dichiarato che quelle erano permute non ho neanche preso in considerazione quell'ipotesi mai nessuno me l'ha mai contestata come faccio ad aver cercato di nascondere la natura della permuta e quindi di fatto hanno citato la famosa fattura corretta penna su cui c'era stato un po' di incomprensione anche sulla traduzione in italiano sostanza quella sentenza lì è molto pasticciata per quello io mi arrabbio quando mi dicono ma tu non dovresti difendere la Juve perché sei un tecnico eccetera io non difendo la Juve io critico la sentenza che è una cosa ben diversa eh beh quando c'è una sentenza un avvocato lo sa meglio di me quello che conta non è innocente o colpevole ma se lo condanni devi essere in grado di spiegare perché l'hai condannato io scherzi a parte però sono molto duro sul discorso plus valenza nella sentenza non le approfondisco primo perché sarebbe nel mio libro fuori luogo fare 50 pagine di approfondimento su IAS38 e cose del genere di cui non so nulla neanch'io e il mio libro è un po' più generico su questo però dal punto di vista giuridico senza da tornare abbiamo parlato spesso proprio con l'avvocato Spallone e altri sicuramente tante cose non stanno in piede oltre a tutti i precedenti in materia oltre a quello che hai detto mille volte della borsa a cui io faccio un accenno lì c'è un discorso proprio giuridico l'abbiamo detto mille volte lì per lì del fatto che la Juve era stata definitivamente assolta e il processo si era concluso e che quando viene ripreso dopo la revocazione molto anomala molto rara viene cambiata completamente l'accusa tra cui questa della borsa e altre questioni la slealtà sportiva e tante questioni su cui alla Juve viene saltato completamente un grado di giudizio cioè riparte dall'appello dall'appello vi condannano per omicidio mentre voi in primo grado avevate solo l'accusa di rapina e non è bello avere un solo grado o due di giudizio invece di tre questa è una delle mille cose cioè quella cosa prof non sta in piedi a mio parere da nessun punto di vista e che non vuol dire affatto che la Juve ha operato benissimo alcuni dicono vedi che hanno operato male ma c'è primo tra compiere un reato barra illecito e operare bene o male c'è un oceano non vuol dire nulla mille società la Juve ha operato benissimo in un periodo e male in un altro non vuol dire che fosse un reato il secondo seconda cosa vedremo non c'è ancora neanche un invio a giudizio dopo un anno e mezzo da tutto il resto e terza cosa anche vi fosse lo vedremo più avanti io ho fortissimi dubbi che sarà sul discorso plus valenze caro prof molti dubbi che sarà sul discorso plus valenze e allora ripeto sentirsi trattare come è capitato magari a te come i tifosi che dicono che la sentenza non sta in piedi perché difendiamo la Juve io posso farlo magari più di te ma anche la mia è una cosa giuridica non è mica perché la Juve è bella e basta e lo stesso è sul calciopoli io ricostruisco anche calciopoli un po' nel libro più ho riletto le cose alcune soprattutto delle altre squadre non ho riapprofondito tutto il discorso Juve che è infinito di Moggi ma le altre ragazzi è una roba veramente la stessa Inter ha 20 io ho fatto tipo 10 punti sull'Inter di calciopoli di cui non si parla ma sono impressionanti uno può dire quello che vuole eh ma tu difendi tu difendi no no io non difendo nessuno io dico che giuridicamente le cose le hanno fatte bene giuste e tutti devono rispondere nello stesso modo nel modo voglio dire adeguato rispetto alla loro condotta tutto il resto è giusto eh questo no scusa prof ma questo è importante sembra sempre che siamo i matti no ma infatti infatti ci sono dei tifosi da Juventus che probabilmente anche di fronte all'evidenza di colpevolezza direbbero che è tutta una montatura perché sono tifosi diciamo di pancia ma nel momento in cui tu condanni a una pena così grave perché l'abbiamo detto tante volte no dire sono 700 mila euro ma no perché quei dieci punti valgono 100 milioni quindi è una pena devastante e devi essere in grado di sostenere quella condanna perché se no se la sentenza è debole come è debole autorizzi ovviamente tutti quelli che pensano che sia un modo per far fuori in modo diciamo non non sono sul campo quello che è il competitor più forte allora io dico che magari qualche comportamento perfettibile ci possa essere stato è un discorso ma c'è un'evidente sproporzione tra i comportamenti contestati emersi e la condanna ma soprattutto se non sei in grado di motivare la condanna lascia perdere nel senso che se non sei in grado di motivare puoi anche dire io sono convinto che non hai lavorato bene ma non hai elementi sufficienti come si fa in qualunque processo civile dove tu non puoi condannare uno perché le intercettazioni sono brutte frasi perché al telefono cioè gli uomini poi si vantano delle cose più incredibili se si desse credibilità alle cose che uno dice al telefono cioè allora anche lì se si intercettassero gli altri però a me non piace l'idea che la Juventus dovrebbe non essere quotata perché così non ti incertetano più perché poi alla fine la Juventus continuerebbe come immagino che tu la segui da prima quindi anche quando non era quotata l'antinovotinismo c'era già ma va ma la borsa è l'ultimo ma veramente non frega nulla a nessuno ma poi l'abbiamo visto prof veramente poi ne parleremo un'altra occasione ma c'era il paese e dico il paese per dire non per fare la retorica perché le prime pagine di Corriere della Sera e altri giornali parlo delle prime pagine di quei giornali non delle nostre battaglie su tutto sport e gazzetta su cui io mi diverto spesso e per rilevare la faziosità di alcune campagne della gazzetta l'ultima molti se ne sono accorti su Sinner caro Leo tu che sei appassionato di tennis molti si sono accorti di certe campagne su Sinner di tutto hanno scritto e poi all'improvviso ma noi Leo quanto le abbiamo viste sul calcio le campagne e gazzette ci ridono in faccia e poi vedono queste e si indignano tutti Leo no ma poi è questo il problema adesso sai è tornato un po' la ribalta al tennis no adesso 4 giorni adesso va nel dimenticatoio però hanno fatto sport week cioè loro hanno dedicato una prima pagina di sport week con tanto di un dossier per infamare Sinner poi hanno caricato quando Volandri non ha convocato Fognini perché poi vanno nel dimenticatoio queste cose perché anche loro sono saliti sul carro però va detto che erano così abituati a farle con la Juve che per Sinner è stato un attimo sì ma gli altri si sono tutti indignati che dicono mamma mia che campagna ma voi non c'eravate nel 2006 i figli miei quando prima di qualunque cosa ogni giorno buttevano in prima pagina pure le intercettazioni di gente che non c'entrava niente e scrivevano serie B prima ancora che cominciasse qualunque cosa ma comunque io non lo so veramente le campagne fatte così vabbè no però dicevo sembrava che per il paese fosse diventato rilevantissimo che una squadra di calcio società per azioni avesse fatto delle plusvalenze con tonghia che le cose 8 milioni 8 milioni facendolo con lo IAS 38 oppure no cose che al paese ma veramente ma non gliene può fregare nulla ma neanche e diventa e su questo io scherzi a parte poi dico un'ossessione italiana cioè nel senso che va molto oltre la rivalità sportiva sull'Inter che è odiata da tanti juventini da tanti milanisti è una squadra importante al di là di ogni ironia è molto tifata ma non ci finisci in prima pagina con lo IAS 38 o meno sull'Inter le ha avute le plusvalenze incredibili per vent'anni di sistema vero all'inizio che le facevano col Milan poi col Genova poi con cose assurde ma non finiscono in prima pagina su Corriere della Sera no profe questo è il mio tema no un po' sì penso che ricorderei benissimo l'avrei messa nel libro no la famosa frase tra amici ci si aiuta no quando c'è l'esigenza di fare plusvalenze carnevali 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 con la Roma no credo carnevali come minimo avrebbero aperto un'inchiesta sulla Juventus per questa frase no è una notizia di ipotesi di reato esercito subito ci ringraziano per la qualità degli ospiti Zamblano noi lo ringraziamo no non è rifiutato infatti no no c'è qualcosa quella era era una partnership sospetta detto con il linguaggio dell'inchiesta sulla Juventus eppure no è diventato e poi c'era quell'altro ho visto l'altro giorno io ho fatto il tweet sul gentleman agreement che aveva fatto l'Inter che era in sostanza un patto non scritto di poter ricomprare il calciatore che è la stessa ragione per cui è processata la Juventus quindi voglio dire sono aspetti particolari Romeo Agresti con il professor Bava con Leo Minà ciao Romeo un saluto a tutti al professore che incontro anche virtualmente per la prima volta lo leggo sempre un po' per il libro professore ti ho ascoltato spesso visto che ti occupi di un tema di cui so poco però mi interessa quello del calcio sarà una grande presentazione torinese con Agresti Monblano e compagnia caro prof le stiamo acchittando così si parla un po' di calciomercato perché poi poi devo dire che il tema di cui tratta Romeo spesso non solo ma che è spesso il calciomercato si incrocia bene col tema dei bilanci e di tutto il resto devo dire le formule le possibilità di spesa Romeo io farei così intanto così poi liberiamo anche il professore ah io tu noi ne abbiamo fatte un po' il tuo bilancio Juve paragonato a quello Inter l'aumento di capitale la borsa tu hai qualche curiosità che magari dici mi serve anche per capire meglio il prossimo mercato Juve la situazione c'è qualcosa che vuoi chiedere? quando ho curiosità leggo il blog del professore perché purtroppo noi parliamo di cose che non conosciamo è vero ora credo che a parte le battute un giornalista che si occupa di mercato penso che debba tener conto e debba per conoscere sulle formule siamo diventati quasi retutologi però bisogna farlo quindi purtroppo io per primo molte volte scrivo in maniera approssimativa di argomenti che dovrei conoscere molto meglio no io vorrei fare solo una domanda al professore in generale noi sentiamo sempre citare questa parola sostenibilità praticamente tutte le componenti che idea si è fatto se la Juventus davvero pensa che sia in grado di cavalcare l'onda per poter arrivare al pareggio di bilancio in quanto tempo un'idea in generale se davvero stiamo andando in quella direzione grazie ma il difficile purtroppo è il Milan e la testimonianza no? è riuscire a raggiungere quella sostenibilità finanziaria mantenendo la competitività sportiva e questo è il difficile perché se uno dice voglio raggiungere il pareggio di bilancio adesso non dico quest'anno ma sicuramente l'anno prossimo ci riusciamo però se poi io ti dico vendiamo Vlauvi c'è Chiesa dice beh grazie anche perché quella sostenibilità durerebbe un anno perché poi l'anno dopo non vinci più una partita magari e esci dalla Champions e quindi hai anche dei problemi in bilancio perché poi l'aspetto tra virgolette affascinante del calcio visto nell'ottica bilancio è che non solo conta al club se ha il bilancio bello ma solo a condizione che vinca ma vincere anche condizione necessaria perché il bilancio sia bello perché ovviamente i diritti televisivi viaggiano sulle vittorie e anche gli sponsor eccetera quindi adesso realisticamente un pareggio di bilancio è ovviamente impossibile nel 24 e auspicabile nel 25 probabile a giugno 26 mettiamola così ovviamente io sto facendo un'ipotesi che dà per scontato che la Juventus voglia mantenere la massima competitività sportiva nel senso di puntare se non a vincere la Champions ma a vincere lo Scudetto e quindi se questa è la prospettiva immagino della proprietà di Giuntoli allora il bilancio viene messo leggermente in secondo piano c'è poi da dire questo che da un lato c'è l'Europa che tra virgolette sta leggermente irrigidendo i parametri e quindi per fare la Champions mette alcuni parametri che non sono aggirabili solo con i versamenti di capitale cosa che invece in Italia per la Serie A si può tranquillamente fare cioè qualunque cosa se il socio mette i soldi va bene per iscrizione al campionato e quindi l'Europa costringe un po' di più le aziende a fare attenzione ai ricavi perché poi un calcolo che noi non sappiamo cioè io non so fare ma immagino sia difficile il fatto che la Juventus possa comunque perdere una cifra non 250 milioni l'anno ma 20, 30, 40, 50 milioni non è detto che per il gruppo sia una perdita perché quanto vale associare al proprio nome il brand Juventus quindi se una società volesse far conoscere il proprio nome senza una squadra di calcio dovrebbe investire in pubblicità milioni e milioni a quel punto il proprietario di una squadra di calcio in genere ha altre imprese ovviamente perché è ricco e avendo altre imprese potrebbe dire per me 30 milioni l'anno messi in una squadra di calcio non è una perdita perché io lo spenderei quella cifra lì la spenderei per promuovere il nome della mia azienda la Juventus me lo promuove quindi questo io non so dire la cifra ma un minimo di flessibilità da quel punto di vista cioè poi ho sentito appunto che sia Ascheroni sia Zang sia Elkan sia Giuntoli tutti adesso la parola d'ordine è sostenibilità finanziaria senza perdere di competitività dirlo è facile infatti io concludo proprio quello la strada l'hanno intrapresa ma c'è la salita e non è proprio facilissimo ma c'è la salita ma c'è la salita